Come modificare le impostazioni della lingua in Wordpress. Prima di iniziare, voglio pubblicizzare o promuovere i miei altri video. Questa sezione dura circa 3 minuti. La sezione successiva avvia il video. Quindi puoi saltare questa sezione. Promuovere il mio lavoro. Questo video è in lingua italiana. Questa sezione è lunga circa 4 minuti. Quindi, puoi saltare questa sezione. La prossima sezione dovrebbe essere l'inizio del video. Devo promuovere o pubblicizzare il mio lavoro. Inoltre, alcuni dei miei altri video potrebbero essere utili. Questi sono solo alcuni dei miei video. Se guardi in alto, dovresti vedere un piccolo cerchio bianco. Se clicchi sul cerchio, dovrebbe darti una lista di altri miei video che sono in lingua italiana. Inoltre, dovrebbe esserci un altro cerchio bianco. E se clicchi su quest'altro cerchio bianco, ti porterà al mio altro canale YouTube. Il mio video su Google include Hosting gratuito del sito web su Google. Per il mio sito in abbonamento video, pago 29 centesimi al mese per l'hosting del sito web su Google. Come aggiornare su Google. Come cambiare un F1 in E2 su Google. Final Cut Pro per persone che non sanno nulla al 100%. Ho progettato questo video in modo che la gente possa capire facilmente Final Cut Pro, e possa creare e pubblicare video oggi. Inoltre, ho video su come installare plug-in in Final Cut Pro, Final Cut Pro Tools, come creare uno zoom di movimento per immagini e video in Final Cut Pro. Inoltre, GarageBand per le persone che non sanno nulla al 100% di musica. Ho progettato questo video per le persone che non possono suonare uno strumento musicale, non possono cantare, e non sanno nulla di musica possono creare musica oggi. WordPress. Come iniziare. Questo video è per le persone che hanno appena iniziato e si sentono sopraffatte. Mostro che tutta questa roba è facile da imparare. La parte più difficile è iniziare. Come aggiungere video ad un sito web. Un sito web di abbonamento video. In questo video mostro come proteggere i tuoi video in modo che la gente non possa rubarli, scaricarli o collegarli. Come tradurre un video in diverse lingue. Questo include l'audio e il suono. Traduco i miei video più popolari in 11 lingue. Mostro come traduco da 2 a 4 video in un giorno in diverse lingue. La mia strategia per fare soldi su YouTube. Questa strategia mi permette di fare soldi da quasi tutti i paesi del mondo. Inoltre, mostro perché il tasso di pagamento di un video, o CPM, non è basato sul numero di visualizzazioni del tuo canale o dei tuoi video. Non si basa sul numero di abbonati del tuo canale. Non è basato sull'argomento del tuo canale o video. Come finanza, viaggi, meditazione, eccetera e non è basato sulla popolarità del tuo canale. Inoltre, molti non si rendono conto che il CPM cambia ogni giorno. Inoltre, ho un altro canale YouTube. Tuttavia, questi video sono solo per gli Stati Uniti. Ma per le persone che non vivono negli Stati Uniti, potresti conoscere qualcuno che questi video potrebbero aiutare. Questo canale ha video istruttivi su come presentare una domanda di fallimento e come presentare una domanda di fallimento per i prestiti agli studenti. Come sbarazzarsi dei prestiti agli studenti dopo 25 anni senza dichiarare bancarotta. Ci sono più di un milione di persone oltre i 60 anni che stanno ancora pagando i loro prestiti studenteschi. Se hai fatto questo quando sei uscito dal college o dall'università, allora quando hai compiuto 47 anni, i tuoi prestiti studenteschi potrebbero essere spariti. Questa legge esiste dal 1972. Inoltre, questo canale YouTube ha un video su come ottenere soldi gratis per il college o l'università e questo include la undergrad e grad school, come ottenere soldi gratis per comprare una macchina, come ottenere soldi gratis per avviare un'attività e molto altro ancora. Tuttavia, questo è solo per le persone che hanno una disabilità, compresa una disabilità di apprendimento. Questa legge fa parte di molti trattati internazionali, quindi il tuo paese potrebbe avere qualcosa di simile. Negli Stati Uniti, questa legge si chiama Rehabilitation Act. Questo è il modo in cui ho ottenuto il mio computer e il software. Metterò un link a questo canale nella descrizione qui sotto. Tuttavia, per il mio altro canale YouTube, questi video sono solo in inglese. Sotto il titolo del video, fai clic su Mostra altro e vedrai tutti i collegamenti. Sul lato sinistro, se fai clic sul piccolo pulsante rotondo con un'immagine, ti porterà al canale YouTube. Come modificare le impostazioni della lingua in WordPress Per modificare le impostazioni della lingua in WordPress, vai sul lato sinistro e fai clic su Impostazioni. Quindi fare clic su Generale. Quindi vai alla lingua del sito. Dal menu a discesa, puoi cambiare WordPress in qualsiasi lingua. Se ti piace questo video, allora premi Subscriber, in modo che YouTube lo mostri a più persone.